amici di fano tv bentrovati per questo approfondimento in studio abbiamo deciso di iniziare in una maniera insolita voi voi rioni e castelli che avete la forza di creare la felicità la gioia l'amore a voi il compito di trasformare questa rievocazione in uno spettacolare trionfo siamo qui per parlare del trionfo del carnevale appuntamento che dopo due anni ritorna in quella di fossombrone in tre date 6 7 e 8 maggio e abbiamo graditissimi ospiti illustri lo diciamo anche tra poco capirete perché due rappresentanti della proloco forum semproni quindi diamo il benvenuto a fosca e giacomo buonasera benvenuti buonasera buonasera a tutti giacomo tra l'altro nella veste tipica quella del cardinale giulio della rovere perché il tutto parte nel lontano 1559 che cosa è successo esatto da uno scritto del ser monaldo attanaggi che era al servizio del cardinale della rovere abbiamo visto che il cardinale amava molto fare festa e divertirsi quindi abbiamo cercato di recreare minuziosamente a seconda dello scritto quelle che erano queste giornate di festa bene siamo giunti fosca alla ventesima edizione esatto e quindi si riparte con tanto entusiasmo anche quest'anno dopo i due anni naturalmente di pausa forzata a causa del covid si riparte quanti sono i rioni che quest'anno poi si sfideranno in qualche maniera come sempre e rioni sono undici rioni quartiere sempre ville vecchie antiche ville castella del contadio di fossombrone si sfidano nei tipici giochi antichi che culmina nella rara e bella corsa l'anello perché il cardinale giulio della rovere ora fare festa per il popolo e per i nobili concluse il carnevale con questa corsa dei nobili che lancia in mano devono prendere un anello sempre più piccolo quindi questo è il clou diciamo della manifestazione quanto chi vince questa gara porta a casa tanti punti che sommata gli altri giochi vince quindi il palio ma non c'è solo questo ecco ricordiamo allora insomma step by step quali sono tutti gli appuntamenti che si trovano in questa tre giorni che devo dire i forsempronesi abbracciano molto volentieri ma raduna anche un nutrito gruppo di turisti insomma non solo delle zone limitrofe ma anche da fuori coinvolge comunque tutta la famiglia perché vengono coinvolte comunque anche le scuole quindi anche i bambini in età scolare sì esatto inizia il 4 con un convegno a cui partecipano l'istituto donati e il mercantino di fossombrone sulle donne del monte feltro e della rovere perché fossombrone faceva parte del ducato di urbino poi il 6 che il venerdì abbiamo il palio dei bambini il 7 che il sabato inizia con la sfilata di quasi mille figuranti tra i portacolori che fanno i giochi i popolani i nobili e quindi iniziano i giochi nel campaccio poi alla sera alle 9 i nobili insieme al cardinale escono per incontrare il duca guido baldo che arriva ad urbino mentre dal comune scendono i magistrati e quindi li abbiamo danza rinascimentali e tanti tanti spettacoli avremo tanti artisti alcuni come gli arabundi musici la pandolfaccia di fanno il circa teatro che sono tanti anni che vengono ma abbiamo anche le novità avremo un grandissimo spettacolo di fuoco e abbiamo delle danze aeree con gli acrobati del borgo ma poi abbiamo un angolo specifico per i bambini avremo dei giochi in cui i bambini si possono divertire e avremo tanti animali che piacciono ai bambini che potranno osservare fare le fotografie avere spiegazioni eccetera quindi è una festa adatta a tutti perché per le famiglie con i bambini per i giovani perché si potranno fare anche un bicchiere di birra senza esagerare perché questo saremo molto 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 rigidi ma anche per tutti quelli che vogliono andare magari a farsi una bella cena diversa dal solito. Allora parliamo anche con il cardinale insomma a proposito di questi dettagli minuziosi e davvero ricchi perché è come dico sempre lo spettacolo nello spettacolo insomma e viene curato tutto nei minimi particolari viene riproposto tutto dell'epoca dalle musiche al cibo. Esatto mentre il cardinale il duca e i nobili faranno la loro festa a palazzo nelle vie di Fossombrone ci saranno tante locande aperte che riproducono piatti tradizionali dell'epoca sempre presi da questo scritto e ci sarà anche un piatto dedicato al cardinale ogni locanda decide di fare un piatto da dedicare al cardinale perché il cardinale è una persona che amava a mangiare e divertirsi quindi troverete tutto a disposizione di chi viene per provare questa questa cosa culinaria. Quindi in questo racconto diciamo di quello che sarà il calendario poi dell'evento di quest'anno vengono fuori anche tanti aneddoti anche storici se vogliamo. Eh sì perché avremo cominciamo i giochi dei bambini che sono giochi storici sono giochi di una volta non è il gioco di adesso ecco. Avremo gli arcicoli di Mondavio che quindi chi vuole provare a tirare con l'arco può farlo. Avremo l'accampamento rinascimentale con gli armati che faranno duelli ma avremo anche questi musici mangiafuoco che tipici tipici dell'epoca ma avremo anche chi ci fa vedere i serpenti possono piacere a tutti però è comunque un momento di attrazione no? Avremo tante musiche sempre dell'epoca e quindi ci si tuffa in questa atmosfera rinascimentale ma questo nel corso Garibaldi via Giganti e via Cesare Battisti mentre nel campaccio si assistono a questi vecchi giochi in gara fra rioni e lì avremo anche Foresi che fa le rime e quindi tra un gioco e l'altro avremo qualche spettacolo e con lui che farà delle rime avremo gli sbandieratori eccetera. Quindi musica e folklore e anche divertimento. Quindi questo carnevale, questo trionfo del carnevale è un vero e proprio momento di rievocazione storica se vogliamo, molto sentita e molto partecipata. È una rievocazione storica. A tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Infatti come dicevo partiamo sui mille figuranti di Fossombroni quindi è una cosa molto sentita dai vari rioni che si preparano mesi e mesi prima sia per fare i giochi che per fare i costumi quindi si cerca di rievocare nel miglior modo possibile l'epoca del 1500. Ok. E i partecipanti che volessero unirsi in maschera come fanno? Io dico in maschera ma in realtà è in abito. Non è una maschera. È in abito rinascimentale. Chi vuole vestirsi? Allora i portocolori sono quelli che fanno i giochi e hanno i colori dei quartieri ovviamente. Ok giustamente. I popolani anche questi si rivolgono ai quartieri perché ogni quartiere ha le sue vie e quindi ha le sue persone che si vestono da popolani. Mentre chi si vuole vestire da nobile si rivolge alla Polocaform Semproni. Perfetto. In modo tale da venire con l'abito giusto. Quindi tre giornate che dicevamo partono il 6 con la giornata però che anticipa questo convegno dedicato alle donne che volesse partecipare come? Si svolge a San Filippo l'entrata libera che chiunque può venire a sentire come le leggi o come erano le donne di quella volta il loro ruolo nella famiglia nella società eccetera che è molto interessante. Ho visto che c'è una nutrita pagina Facebook insomma ricca di appuntamenti eccetera quindi se qualcuno volesse prendere contatto con voi può farlo anche attraverso i social. Vogliamo allora fare dei ringraziamenti o ricordare ancora qualcosa di questa tre giorni intensa? Noi facciamo un invito a venire a Fossombrone in questi tre giorni perché ripetiamo è una festa per la famiglia quindi c'è per tutti sia il momento di allegria è un momento in cui si possono gustare magari nei piatti dimenticati che non si mangiano giornalmente. Piatti della tradizione riveduti magari. Esatto esatto ovviamente non si potrà mangiare cioccolata o pomodoro perché nel 1500 non era ancora nei nostri piatti. Ecco ma entriamo allora anche un pochino nel dettaglio culinario perché è comunque una cosa che riguarda un po' interesse a tutti quanti quali sono gli ingredienti tipici che poi dopo i master chef del territorio utilizzeranno e rivisiteranno in chiave anche moderna diciamo saranno piatti apprezzabili e apprezzati da grandi e piccini questo lo diciamo? Carne ovviamente per un piccolo momento c'era la selvaggina ma tutta la carne comunque che quella volta era mangiata carne formaggi salumi verdure varie ma ripeto non potremmo trovare quelle verdure che ancora anche se scoperte non venivano comunque usate nei nostri piatti. Quindi una sorpresa non possiamo dire quale non possiamo svelare. Poi torniamo alla sorpresa che comunque i menù sono sui social ci sono i menù, i numeri di telefono con cui uno prenotarsi anche per mangiare nelle varie locande. Solitamente sono previsti tanti partecipanti possiamo fare una media giusto per fare un paragone con gli altri anni per renderci conto veramente quello che accade nella città di Fossombrone. In genere sono migliaia le persone che arrivano. Speriamo quest'anno dopo questa pandemia che la gente ritorni a trovarci. Sicuramente sarà così. C'è un po' di timore perché non sappiamo come la gente risponderà però speriamo bene. Però la voglia di ripartire comunque e di partecipare è tanta. Ma fate delle prove prima? Come funziona? Raccontaci un po'. Nel tempo, mesi e mesi prima i ragazzi e la ragazza dei quartieri e cominciano come diceva Fosca a disegnare, tagliare, costruire i vestiti per i portacolori e per i popolani e poi cominciano a fare gli allenamenti solitamente la sera togliendo tempo alle proprie attività e si ritrovano nel loro quartiere e cominciano a fare quelle che sono le gare che poi principalmente faranno guadagnare dei punti del quartiere. Però si sfidano tra di loro, si fanno pratica e si migliorano ogni anno. Bene, bene, bene. Quindi facciamo un grande allora in bocca al lupo a tutti i rioni o quartieri che dir si voglia che parteciperanno e poi il vincitore che cosa si aggiudica? Il vincitore si aggiudica il palio del cardinale che poi terrà per un anno e l'anno dopo lo rimette in gioco. Bene, benissimo. Allora facciamo i ringraziamenti a coloro che anche hanno lavorato dietro le quinte perché comunque dietro un evento del genere c'è una preparazione non da poco. Ci sono decine, decine, decine di persone che lavorano per mesi, togliendo tempo al loro tempo libero ovviamente, però questo è un modo anche per stare insieme, per socializzare, per aggregarsi e quindi dopo questa pandemia questo è un modo per uscire fuori, per ritornare ad avere i rapporti sociali che prima erano un po' scemate, no? Si erano chiusi dietro un telefono in pratica e questo speriamo sia un modo per ricominciare e costruire quei rapporti che sono essenziali alla socializzazione, specialmente per i giovani. Assolutamente sì. Allora io ringrazio il cardinale, naturalmente, e Fosca per essere stati con noi. Mi raccomando le tre giornate, sei, sette, otto maggio, in caso di pioggia però ricordiamolo. In caso di pioggia è rimandato al fine settimana successivo, ma speriamo, siccome noi abbiamo Sant'Aldebrando che dice che ci aiuta a Fossombrone, speriamo che anche quest'anno ci aiuti e ci dia tempo buono. Bene, allora vi aspettiamo tutti quanti in queste tre giornate a Fossombrone, grazie agli amici della Proloco Forum Semproni per essere stati con noi, grazie a voi dell'attenzione e naturalmente un grazie a Riccardo Sora in regia. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.